Allora, buongiorno a tutti. Io sono Maria Ledda e sono qui a portare i saluti del mio servizio e molto più in alto i saluti del nostro assessore, la dottoressa Spano, e anche del direttore generale. Per una serie, insomma, di impegni concomitanti non hanno potuto partecipare. Comunque sono qua, appunto, in rappresentanza per esprimere il nostro interesse per questo evento, per il quale, insomma, abbiamo una partecipazione un po' laterale, nel senso che abbiamo dato il nostro endorsement e quindi vuol dire crediamo in questo progetto. Poi siamo ospiti, appunto, come ufficio, siamo anche relatori con il dottor Brugnone, quindi, insomma, siamo presenti in più vesti e ci fa molto piacere essere qui. Un progetto molto interessante, sia per gli aspetti che riguardano, appunto, il ripopolamento e, come è stato detto dal dottor Riga, un aspetto che noi in regione sentiamo molto, almeno come assessorato difesa dell'ambiente, che concerne i rapporti con le popolazioni, i danni, la convivenza fra l'uomo e la specie. Quindi queste prospettive, in questo scenario che verrà anche affrontato domani, per noi è di particolare interesse. Quindi io non aggiungo altro, perché ho visto che il programma delle due sessioni di oggi è veramente denso e ricco e quindi auguro a tutti quanti un buon lavoro.